Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. In A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e P1 Variante in direzione nord. In A11 possibili disagi per presenza di personale su strada tra P11, Statole 1 Aurelia e Lucca Est per chi viaggia verso Firenze. Regolare al momento il traffico in Fipili dove segnaliamo che per lavori è chiusa l'uscita di Pisa Aeroporto provenendo da SGC Firenze e Livorno. Prima di salutarci per il trasporto pubblico locale ricordiamo che fino al 9 marzo la funicolare di Certaldo sarà chiusa al pubblico per lavori di collaudo e manutenzione. È in funzione un servizio di trasporto alternativo denominato Pollicino attivo dalle 7.30 alle 19.30, inclusi il sabato e la domenica. Buonasera in Toscana, mi fa un servizio in collaborazione con la regione Toscana, Città Meroportana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!